Basta solo un po' di fantasia ed anche una semplice insalata russa può diventare un raffinato e festoso manicaretto. E' anche buonissima e sarà la protagonista delle tavole natalizie. Peliamo le carote e tagliamole a piccoli cubetti più o meno tutti delle stesse dimensioni. Peliamo anche le patate e tagliamole a cubetti delle stesse dimensioni delle carote. Appena l'acqua bolle e saliamole iniziamo a cuocere patate e carote. Trascorsi circa 2 minuti dalla ripresa del bollore aggiungiamo anche i piselli. E proseguiamo la cottura per altri 5 minuti circa. In tutto le verdure dovranno cuocere circa 7-8 minuti. Scogliamole in una ciotola con acqua e ghiaccio in modo da fermare la cottura e mantenere il colore. In una capiente ciotola uniamo la patata lessa schiacciata, il tonno ben sgocciolato, un pizzico di sale, l'uovo suodo sminuzzato e la maionese. Amalgamiamo bene il tutto fino a creare una crema omogenea e saporita. Tritiamo grossolanamente l'insalatina di verdure sott'aceto, io ho utilizzato quella a base di carota, sedano rapo e peperoni. Uniamola alla crema con la maionese. Aggiungiamo i cetriolini tagliati a rondelle, il sedano tagliato a cubetti e le verdure che avevamo lessato ben sgocciolate. Amalgamiamo bene il tutto e l'insalata russa è pronta. Prima di servirla andrà conservata in frigo per qualche ora in modo da farla insaporire. Ma con pochi semplici passaggi potete trasformare l'insalata russa in un festoso manicaretto che sarà il centrotavola perfetto. Foderiamo uno stampo a cupola con pellicola trasparente. Trasferiamo un'insalata russa al suo interno e livelliamola con il dorso di un cucchiaio. Battiamo lo stampo sul piano di lavoro per evitare eventuali vuoti e copriamo con pellicola trasparente. Riponiamole in frigo a rassodare per almeno 6 ore. Possiamo eliminare lo stampo e la pellicola trasparente e procedere con la decorazione. Con un pela patate tagliamo le zucchine a fette molto sottili e disponiamo le zucchine sulla cupola intrecciandole. Tagliamo a fettine sottili anche un cetriolino e posizioniamo la cascata intorno alle zucchine. Posizioniamo sulla cupola un pochino di maionese che servirà per far attaccare le verdure. Tagliamo le altre fette di zucchine in due, se è troppo lunga e accorciamole. Posizioniamo un po' di maionese sulle due estremità e richiudiamole per formare parte del fiocco. Posizioniamo sulla cupola le fette di zucchine in modo da formare una coccarda. Stessa cosa con la carota, peliamola e tagliamola a fette molto sottili. Accorciamole se sono troppo lunghe, aggiungiamo un po' di maionese sulle estremità e richiudiamole. Aggiungiamole per arricchire la coccarda. Se necessario per farle aderire utilizziamo un altro po' di maionese. Posizioniamo qualche cappero sotto i cetriolini. Diamo forma alla rosa di pomodoro. Tagliamo un pomodorino con uno spilucchino curvo in modo da ricavare una striscia sottile. Sarà importante utilizzare un pomodoro tondo e ben sodo. Vanno bene sia pomodorini ciliegino che pomodori grappolo. La striscia di pomodoro dovrà essere molto sottile, altrimenti faremo fatica ad arrotolarla. Ottenuto una striscia sottile iniziamo ad arrotolarla dalla parte più stretta fino alla parte più larga che farà da base. Giriamola su se stessa e voilà, la rosa di pomodoro è pronta. Posizioniamo sulla cupola quattro foglie di basilico e posizioniamo al centro la rosa di pomodoro. Infine tagliamo l'uo sodo a fette sottili e posizioniamole sui lati della cupola. L'insalata russa è pronta per andare in tavola. Vi ho dato qualche idea per la decorazione, ma potete sbizzarrirvi con la vostra fantasia. Farete un figurone ed è anche buonissima!